Hotel del Centro Hotel del Centro, nel cuore di Palermo Volete immergervi nell'atmosfera a carica di arte e di storia di Palermo? Prenotate una camera all'Hotel del Centro L'Hotel del Centro è in Via Roma 72, nel cuore arabo-normanno di Palermo Tra la Cattedrale e il Mercato della Buccilia e a soli 150 metri dalla stazione e dai terminal per l'aeroporto Nell'Hotel del Centro potrete trovare un'accoglienza perfetta il fascino di un edificio d'epoca e camere molto confortevoli arredate con stile ed eleganza e dotate di servizi privati phone, tv, telefono, impianto di climatizzazione, connessione internet, wifi Vi è anche la possibilità di usufruire di una sala riunioni di un internet point gratis e di un garage convenzionato Una ricca prima colazione a buffet è a disposizione degli ospiti ogni mattina